Eccoci qua raga, abbiamo sbloccato Godzilla Godzilla King of the Monster E ora andiamo a provarlo per la prima volta In questo fantastico gioco, Angry Shark Forse uscirà anche sul canale Guardate, guardate, guardate che bestia Già, già è velocissimo Oddio, oddio No, no, si è alzato come Godzilla Oh, madonna Quanto è figo Non mi ero accorto di sto cosa Ah, dobbiamo andare subito a fare il mostro sacro di Il granchio, il granchio gigante Ok, vediamo le missioni Beh, ci sta, eh Ok, vediamo le missioni Ok, vediamo le missioni Mangia tutto, mangia tutto quello che puoi Ok, vediamo le missioni No, non può finire così È ritornato in vita Godzilla, è veramente lui Cioè, guarda, 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 guarda che distruzione Ok, vediamo le missioni Ok, vediamo le missioni vabbè giusto qua me ne tolgono il soft atomico altrimenti sarebbe troppo facile distrutto boom predatore ed è il primo ok facciamo solo un piccolo video solo uno vediamo quanto duriamo intanto abbiamo già fatto una missione ok abbiamo fatto anche due missioni vediamo cosa mi manca due fori e due sharkira nemici e quattro cos'è l'altro fai esplodere barili tossici ah capito come farlo capito capito porco di quel demonio vieni qua ok 3 su 9 perfetto ok non è difficile io pensavo li potessi mangiare invece li devi distruggere ci vuole una squadra più grande ok allora sarei tipo morto subito no però è vero anche che ho un po' di giamma da sprecare quindi a sto punto calpestra 500 passanti hanno 100 passanti ho sbagliato ok ho sbagliato ok 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 Ok. Ok. Distrutto. Primo video si può concludere. Alla prossima.